È stato molto difficile, però è stato anche molto emozionante. La cosa più dura per me, che fa parte delle regole, è non occuparti degli altri. Nel corso di questi giorni ci sono i momenti in cui raccogli e vivi, se sei minimamente empatico, tu capisci che per me era proprio il mio posto. Vedevo gente che soffriva e dovevo andare ad essere a manca ad aiutare a fare. Quindi sono stata rimproverata più di una volta, però arrivavano tutti da me. Io proprio sentivo che mi stavo completamente svuotando verso l'altro.